Ci troviamo qui in uno dei campi che è andato a fuoco, uno dei tantissimi. In realtà ci troviamo in via della Solfatara, via che incrocia la via Ardiatina e questo è uno dei campi che ha preso fuoco. Se la camera può voltarsi si vedranno ancora i fumi, i fumi dell'incendio che è stato da poco spento quando siamo arrivati i vigili e la protezione civile erano qui a spengere le ultime fiamme. Grazie 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 Grazie